Ho acquistato perché è l'unica strategia di trading che ti permette di essere subito operativo e con poco tempo da dedicare alla costruzione dei file quindi non serve stare ore davanti ai grafici E' proprio per mancanza di tempo che non sono mai riuscito a dedicarmi a questa attività Grazie all'antimart in gala che associato all'analisi statistica ti indica i migliori livelli di prezzo e ti fa massimizzare i profitti così da rientrare facilmente da possibili operazioni di stop loss In pochi minuti so in quale giorno della settimana operare in un determinato strumento Grazie a tutto lo staff che è sempre disponibile nel dare risposte a domande e chiarire i dubbi